Fango e vittime, paesi devastati, il maltempo, la tragedia, i centri colpiti sono una quarantina, distrutto il litorale, oltre 27 mila senza energia elettrica, lunghe cose in autostrade, Emilia Romagna, i morti salgono a 13, i comuni sott'acqua, i soccorritori, dicono dopo tre giorni, è davvero un disastro. Ora invece di prendersela, in un paese normale se la prenderebbero con gli amministratori che non hanno fatto niente per mettere in sicurezza il territorio attraverso opportune operazioni di risanamento idrogeologico, cioè in un paese normale si farebbe così, in un paese di matti invece questo non succede, anzi magari danno voce pure a persone che hanno governato l'Emilia Romagna e che ora ci vengono a spiegare come fare per risolvere problemi che la loro idiozia ha causato. Ecco qui, ora fanno parlare questo tipo qua. Ora, il premio Nobel, questo Parisi, ve lo ricordate chi è quel premio Nobel Parisi? Il fisico che vuole un piano mondiale con l'India e la Cina e in Italia mettiamo doppio vetro nelle case e pannelli, cioè questo qui, secondo questo qua, basta mettere il doppio vetro agli occhiali, te lo devi mettere il doppio vetro, così magari legge e capisci le cose che legge. Questo qui è quello che nel corso dell'emergenza Covid sparava fesseria a tutta forza, quello che voleva la quarta dose, che voleva le 18 mascherine, cioè uno che si limitava a ripetere soltanto le stupidaggini che il potere politico voleva sentirsi dire e poi evidentemente viene premiato attraverso riconoscimenti fintamente prestigiosi per la sua fedeltà al sistema e oggi, incurante delle figuracce fatte al tempo del Covid, lo hanno trasformato. Ecco, da esperto in emergenza Covid, adesso è buono pure in esperto di emergenza climatica, insomma questo è buono per tutte le emergenze, Giorgio Padisi, che è premio Nobel per la fisica, ci aiuta a capire in Emilia Romagna in meno di due mesi si è passati dalla siccità alle alluvioni, cosa sta succedendo, sono eventi estremi ai quali dobbiamo abituarci, perché abituarci, sono eventi che dipendono dai cambiamenti climatici, ma perché, dici stupidaggini, ma perché, sono sempre esistite le alluvioni, sono sempre esistiti i periodi di siccità, sono sempre esistite le calamità, ma perché ti devi inventare stupidaggini? E noi per combattere questi cambiamenti stiamo facendo pochino, dice noi chi? La comunità mondiale, ma anche noi in Italia. E' certo che questi cambiamenti climatici dipendono dall'attività dell'uomo, assolutamente sì, e per via delle emissioni di CO2, non è vero niente. Ci sono persone seri, scienziati, abbiamo sentito pure noi, come Franco Battaglia, come Franco Proti, che dimostrano come questa ricostruzione sia assolutamente fasulla, non è vero nulla. I presunti cambiamenti climatici non hanno nessuna origine antropica. Questa è un'invenzione costruita nei centri del potere profondo per trascinare l'umanità dentro una nuova emergenza permanente che è legittima delle politiche che servono soltanto i padroni di Davos, ma che non servono né a tutelare la salute del pianeta, né a migliorare di una virgola la vita delle persone, ma servono soltanto ad accompagnare il processo di consolidamento del potere in capo ai soliti globalisti. Ecco, non tutti gli scienziati dicono questo. Quelli che negano il nesso sono meno dell'un per c'è. Ecco, li ha contati lui. Così come quelli che negavano la sicurezza dei vaccini, erano meno dell'un per c'è. Era solo Montagnier che diceva la verità. Ma voi chiamate scienziati, persone che sono al libro pagra, delle grandi multinazionali, quella non è comunità scientifica, quella si chiama in un altro modo. La storia delle temperature della Terra è analizzata con molta precisione, un aumento così rapido non è mai avvenuto. Ma poi vi rendete conto? Ecco, me lo raccontava un esperto. Mi diceva, ma secondo te come è arrivato a Niboli, all'epoca dei Romani in Italia? Ha dovuto attraversare le Alpi? E come ha fatto con gli elefanti? Evidentemente, provate ora a attraversarle con gli elefanti, le Alpi. Evidentemente all'epoca il clima era più mite, molto più mite di adesso. E sicuramente non c'erano emissioni di anidride carbonica per come se le inventa questo Parisi. Sempre il mondo, l'umanità è andato incontro a dei cambiamenti di temperatura, che sono il risultato di processi che sfuggono completamente all'attività umana. Questo criminalizzare l'uomo serve semplicemente a legittimare politiche anti-umane, perché queste persone, facendo finta di difendere il cosmo, la natura, l'ordine, in realtà perseguono un obiettivo dissimulato, che è quello di colpire l'uomo, perché odiano l'umanità. Realizzare un piano mondiale facendo un accordo con la Cina, va bene. In Italia possiamo fare qualcosa? Sì, possiamo mettere due... Ecco, questo qui, fate questo. Mettete i doppi vetri alle finestre, così farà più freddo. Ecco, quindi la soluzione ve la dà il fisico Parisi. Se mettete i doppi vetri alle finestre, vedete che non succede, non piove più, non arriveranno più delle disgrazie climatiche, basta questo. E li fanno parlare, se li danno pure il premio Nobel, è questo qua. Grazie. Grazie.